Voglia di pane? Andiamo da Marconi. Lo storico panificio è presente a Piagge dal 1956 e offre una vasta varietà di pane fresco e pizza, ma anche pasticceria dolce, salato e prodotti da forno tipici della nostra zona. Vendita all'ingrosso e al dettaglio. Panificio Marconi è in via Dante Alighieri 3 Piagge in provincia di Pesaro Urbino. Telefono 0721 890140. Che buono questo pane!